Grazie a tutti. Lo vede di buon occhio, è favorevole, è intenzionato ad approfondire la questione e poi se sì l'amministrazione sua ha già fatto una sorta di censimento degli spazi pubblici, ci potrebbero essere spazi che anche magari per essere rivitalizzati nella città e quindi potrebbero essere vestiti a un uso di questo genere. Ma allora, cosa pensa l'amministrazione del co-working? Penso esattamente a quello che è stato proiettato con le slide dal signor Sarli. Cioè il co-working è sicuramente un'opportunità, non è la soluzione dei problemi, è un'opportunità per persone dinamiche. Io personalmente vedo il co-working come un'opportunità che deve essere data alla persona giusta, nel momento giusto e per un tempo giusto, diversamente uno spreco e non serve a niente. Persona giusta perché? Perché deve essere innanzitutto una persona ambiziosa, un microimprenditore, deve avere fiducia in se stesso innanzitutto. Nel momento giusto, nel senso che questa persona deve avere una formazione e deve avere un'idea, deve avere un sogno. Non posso dare questa opportunità a uno che cerca il posto fisso. Non è quello l'obiettivo del co-worker, ecco. Quindi è una persona ambiziosa che crede in sé, ha un sogno e per un tempo giusto. E il concetto di 24 mesi, io mi permetterei di dire 48 mesi perché in 24 è difficile realizzare un progetto, avere un'idea. Quindi ecco, questa è la mia idea di co-working e il co-working ha senso se si passa dall'occupazione al lavoro. E richiamo quello che ho detto all'inizio, cioè il co-working nasce per dare un'occupazione per persone che prese singolarmente non hanno i soldi per sostenere i costi. Allora divido i costi con un progetto comune, sotto alcuni aspetti, e quindi nasce come occupazione. Riduco i costi, o li alziero se ci sono i contributi, se c'è il locale, riduco i costi per iniziare ad avere un'occupazione che mi garantisca un minimo vitale, ma devo arrivare al lavoro, a creare lavoro per me e per gli altri se possibile, da microimprenditore con un'occupazione a imprenditore con un lavoro che possibilmente dà lavoro. Però ecco, detto questo, è evidente che la differenza la fanno le persone. Perché se uno mi chiede, l'amministrazione è disposta a ragionare sul co-working? Dico, a priori no, perché? Perché voglio sapere qual è il progetto che voglio sviluppare. Perché se uno mi dice, vorrei dei locali per metterci dalle persone, non è sufficiente. Voglio sapere il progetto di queste persone. Voglio capire chi sono e qual è il loro sogno. Senza di quello, non ci sono le basi per iniziare questo progetto, secondo me. Perché anche la foto che ha pubblicato l'Eco di Bergamo è la foto ideale del co-working. Cioè, 5 persone attorno a un tavolo, con 5 computer, un cellulare e 2 o 3 bicchieri di caffè. No, questo non è il co-working. O uno mi presenta un progetto serio. Persone motivate, ecco, persone seriamente motivate, allora su quello si può investire. Si può investire. La differenza qui non la fa il contenitore, il co-working, ma le persone. E' questa, è solo questa la differenza che c'è e sulla quale si può ragionare. Sulla quale si può ragionare, perché adesso il sindaco non è deputato a trovare il lavoro alle persone. Però in un momento come questo ci mancherebbe anche che un amministratore locale si sottraga questo compito. Assolutamente. Io se potessi trovare anche solo un lavoro fisso o flessibile a un ragazzo, rinuncere magari, dico, un servizio o un'opera pubblica, paradossalmente, sapendo il dramma che c'è dietro la disoccupazione. Quindi non mi sottrago, anche se non è la mia competenza, perché il lavoro deve nascere dall'alto, da chi sta sopra, che deve partire pensando all'articolo 36 che ho menzionato prima. Quindi non mi sottrago al confronto, se ci sono i presupposti. E per quanto riguarda gli spazi, adesso 200 metri quadri sono veramente tanti. Nel senso che adesso 18 persone, non so come sono stati fatti questi conti, perché sono partito all'inizio, 122 sono i questionari tornati. Quelli che ricevono assediati erano un 30%, e di questo 30% il 50% si dichiarava più o meno favorevole a un'ipotesi di co-working. Quindi non so se proprio asseriate ci saranno 18 persone seriamente motivate ad un lavoro di co-working. Io dico, se c'è l'opportunità di creare del lavoro per persone motivate, serie, con un progetto ambizioso, non mi tiro indietro. Non mi tiro indietro. Ci mancherebbe, se dovessero venire 5, 6, 10 ragazzi a confrontarsi con l'amministrazione sul problema del lavoro, io mi siedo e ci ragiono. Allora, lei mi ha chiesto se ho fatto un'analisi degli immobili del comune. Ho fatto un'analisi, assolutamente sì. Il comune è a disposizione ovviamente delle case popolari. Case popolari, tra l'altro, sono la stessa cosa il co-working. Andrebbe date, secondo me, a leggera sono i giusti, è un momento giusto per un tempo determinato. Invece le regaliamo, però vabbè, questa è una mia riflessione. Abbiamo i case popolari, ma abbiamo anche uffici, l'ASL, la Casa delle Associazioni. Ci sono diversi spazi. Ci sono anche spazi ancora liberi. Paradossalmente c'è un immobile di Via Marconi che sono migliaia di metri quadri, però ecco, non è questa, mi sembra, la destinazione di quell'immobile in Via Marconi. Però ecco, quello che posso dire è, se ci fosse un progetto serio, si fa un ragionamento serio e l'immobile si trova. Perché se fosse per dare a 5-10 ragazzi inseriate, ambiziosi, un futuro, l'amministrazione non si tira dietro, anche perché ho visto che c'è una banca presente sul territorio e chi ringrazio, e quindi siamo già in due a crederci. Però ci deve essere il contenuto, questi ragazzi. Assolutamente sì. Io ecco, quello che, la cosa che posso regalare stasera è la frase che metterei all'ingresso di questo laboratorio, di questa stanza, di questo ufficio di co-working. Usarei le parole di Roosevelt, che ha detto Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni. Ecco, uno che crede nel co-working tutte le mattine dovrebbe leggere e credere in questa frase. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Devi avere un sogno e ci devi credere. Allora vieni, ti confronti e insieme, insieme all'ente pubblico e ai soggetti privati, magari ti aiutiamo a realizzare questo sogno. Perché se tu sogni, migliori la città, migliori la società, migliori la nazione. E ora sogniamo insieme, questo sì. Però prima voglio sapere chi sei e che sogno hai. Ecco. Grazie.